Ha sentito che ha detto Salvini, è d'accordo con i calani umanitari, giustamente, Anicolina ha detto questa è una notizia. No, non è una notizia, perché Salvini l'ha sempre detto, chi scappa dalla guerra è giusto, è mio fratello, ha sempre detto, quindi è giusto e doveroso accoglierlo, ma far sì che possa arrivare sano e salvo anche in Italia, tra l'altro, quindi benvenga l'idea dei corridoi umanitari. Anche hai detto che gli altri bisogna rispedire sulle spiagge con un pacchetto di noccioline, te lo dico. Anche questo, come tante altre persone hanno detto tante altre cose, magari diciamo che sembrano poco eleganti e poco politicamente corrette, detto questo però il problema è che per esempio in questi primi tre mesi dell'anno sono sbarcati in Italia 22.000 persone, di queste dati il mistero dell'interno, solo il 5% effettivamente sono persone che arrivano in Italia perché fuggono da guerra. Gli altri che cosa facciamo? L'Italia ormai non può ospitare tutti. Le nostre città sono piene di luoghi dove è difficile anche convivere. Spesso e volentieri queste persone arrivano in Italia e si disperdono perché non lasciano neanche le proprie generalità e le proprie impronte, perché l'identificazione è difficile, perché si dichiarano transitanti. Quindi arrivano in Italia e poi vanno via. Non si sa se vanno via. L'altro anno il ministero denunciava circa 50.000 persone sparite di queste che sono arrivate in Italia. Secondo noi questa immigrazione clandestina, quindi di chi non ha diritto di venire qua e di essere ospitato e giustamente anche aiutato, è un problema enorme a cui l'Italia non può ovviamente da sola far fronte. E l'Europa, anche nella firma di quel documento inutile che abbiamo visto domenica, non ha fatto nessun passavanti. E l'Europa, anche nella firma di quel documento inutile che abbiamo visto domenica, non ha fatto nessun passavanti.